Stasera sentite la finale di questo sesto concorso, edizione sesta di concorso nazionale giovani talenti del jazz italiano, nazionale italiano. E di sera abbiamo selezionato sette gruppi e riteniamo di avere selezionato poi da sette gruppi tre nomi e ragazzi veramente all'altezza di concorrere a un concorso di così alto prestigio come quello Città di Treviglio e stasera li sentiremo sul palco nel massimo della loro esibizione. Abbiamo aggiunto anche un'alternativa importante che riguarda il miglior arrangiamento, non solo i due brani che loro eseguono. Direi che la cosa è molto carina, vi abbiamo dato un brano di musica leggera, Yesterday Day Beatle, da arrangiare in jazz. Di conseguenza avviene che oltre al premio normale della migliore esecuzione ci sarà anche il premio del miglior arrangiamento di un brano che non è per niente jazz. Ringrazio il comune di Treviglio con la sua grande sensibilità, ringrazio la Same Spa per averci donato, dato questa location veramente di alta qualità e soprattutto la grande educazione e stima che corre tra queste due aziende, la Same e un'altra che non è un'azienda ma è comunque un'azienda, il comune di Treviglio. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.